Con calma, andiamo indietro e scendiamo verso il presidio, scendiamo verso il presidio, con calma, con calma, scendiamo verso il presidio, scendiamo verso il presidio, dove si terrà un'assemblea, quindi scendiamo e arretriamo con calma, senza correre, andiamo con calma verso il presidio. Allora, con calma, con calma, andiamo indietro, con calma. Allora, con calma, andiamo indietro, con calma, andiamo indietro.